Arrestate quella donna! Kuwait? Prendi! Preparatevi a una sorpresa! Non possiamo lasciarlo in giro, sa troppe cose! Si hanno piazzato una cimice! Hai segnale! Eccolo! La cimice è nel crato! Prendi questo appare dalla cassetta e infilatelo nel naso! Tranquillo, sa lui cosa fare! Trovato! L'ho perso! Dov'è? Benvenuti su Marte! Hai fegato a mostrare la tua faccia in giro! Senti chi parla! Hai cancellato la tua identità e mi hai impiantato un altro! Se io non sono io, allora chi diavolo sono? Dovete consegnarmi Kuwait vivo per un nuovo impianto! Ci auguriamo che il viaggio vi sia piaciuto! No! 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 Ci auguriamo che il viaggio vi sia piaciuto! Il viaggio!